Le persone di successo leggono libri. Quali sono i trucchi per leggere di più? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio darti i 5 miei trucchi ed anche un mio piccolo segreto alla fine di questo video per leggere di più. Perché ragazzi, lo si legge dappertutto, lasciatemi passare il gioco di parole. Le persone di successo leggono, leggono tanto, leggono 30, 40, 50, 80 libri l'anno, vuol dire 5, 6, 7 libri al mese. Come si fa a leggere così tanto? C'è Warren Buffett per esempio che dice che lui legge mediamente 5-6 ore al giorno. Ragazzi, 5-6 ore al giorno, tutti i giorni della vostra vita. Potete solo immaginare quanta conoscenza potreste accumulare ed è la conoscenza, soprattutto in questa economia, in questo momento storico, che fa la differenza, è l'arma principale per ottenere successo. Quali sono poi i trucchi che potete applicare? Prima dovete capire che leggere è uno skill, ok? È una competenza a tutti gli effetti. Quindi, saper leggere e saper leggere parecchi libri è un allenamento, richiede allenamento. Più vi allenerete e più sarete in grado di leggere. Se voi nella vostra vita non avete mai letto una pagina di un libro, all'inizio sarà difficilissimo mettersi lì seduti, rimanere concentrati, non essere distratti, non alzarsi, non annoiarsi. Ma mano a mano che sviluppate questa competenza e create un'abitudine, vi assicuro che poi non leggere più sarà difficile da raggiungere. Vi sentirete male, è quello che succede assolutamente a me. Quindi la prima cosa da capire, ragazzi. La seconda è che leggere crea una competenza che è un po' come l'interesse composto nella finanza, no? L'interesse composto, ragazzi, è una delle formule matematiche più potenti al mondo, lo ha detto Albert Einstein, non me lo sto inventando io. Ed è un interesse composto la conoscenza che si accumula da leggere libri. Perché mano a mano che leggete, più leggete più la vostra conoscenza costruisce quei mattoni che vi permettono di sapere sempre di più e di avere sempre più frecce al vostro arco per ottenere quello che volete ottenere. Veniamo ai cinque piccoli trucchi che almeno io ho utilizzato in passato per sviluppare questa competenza e per allenarmi. La prima, schedulatevi, quindi mettetevi in agenda un momento della giornata in cui, come se aveste un appuntamento, in cui vi mettete seduti e leggete. È importante avere quello che in inglese viene chiamato un blocking time, cioè un tempo bloccato all'interno della vostra agenda in cui voi e chi vi sta intorno sa che avete un appuntamento. Come se doveste andare in palestra, come se doveste incontrare un cliente, come se doveste studiare o avere una lezione all'università. È importantissimo. E vi dico anche una cosa che a me è cambiata nel tempo. Io all'inizio leggevo tantissimo la sera. Adesso, negli ultimi anni, la sera arrivo veramente stanco, perché la giornata è veramente piena di cose da fare, e non riesco più a concentrarmi, a stare concentrato. Mi stanco. Leggo 10, 20, 30 pagine e dopodiché devo smettere e assorbo anche meno. Quindi ho cambiato la mia abitudine solo dal punto di vista dell'orario. Io adesso leggo tantissimo nella parte iniziale della giornata, soprattutto la mattina, soprattutto nelle prime ore della mattina, quando mi sveglio. Mi sveglio molto presto e non appena mi sveglio, la prima cosa che faccio è leggere. Quindi questo può essere un consiglio che vi può essere utile. Secondo consiglio, eliminate le distrazioni. Oggi questi diavolo di cellulari, aggeggi che abbiamo addosso con mille notifiche che arrivano ad ogni minuto, sono fonte di enorme distrazione. Ci rendono la vita estremamente complicata per riuscire a concentrarci. Teneteli lontani. Quando leggete o non avete il cellulare, tenetelo lontano e non abbiate il cellulare nelle vostre vicinanze, o togliete tutte quante le notifiche. Uno dei motivi per cui la parte più produttiva della mia giornata è la mattina, per quanto mi riguarda, è sicuramente questo. Perché la mattina, o me, soprattutto la prima mattina, ragazzi, dalle 6 alle 9, non ho telefonate, non ho notifiche, non mi scrivono su WhatsApp, non mi scrivono su Telegram. Quindi, importantissimo, eliminare le distrazioni. Datevi un obiettivo giornaliero. Soprattutto all'inizio è importante, non cominciate subito con l'idea, ok, Bill Gates legge 50 libri all'anno, quindi io devo leggere almeno 4 libri al mese, quindi vuol dire che devo leggere un libro a settimana. Quello è il mio obiettivo. Ragazzi, no, vi ho detto prima, è una competenza che va allenata. Se non siete allenati non ci riuscirete e non riuscirci e fallire vuol dire purtroppo poi rischiare di abbandonare quell'obiettivo. Datevi invece un piccolo obiettivo raggiungibile, in base alle vostre, a quelle che sono, che è già il vostro allenamento. Leggete già un libro al mese? Bene, e quindi già leggete mediamente, non so, 50 pagine al giorno? Datevi l'obiettivo di leggere 80 pagine al giorno. Non leggete nemmeno una pagina al giorno? Datevi, iniziate con un piccolo obiettivo, iniziate con 10 pagine al giorno. Solitamente una persona media ci impiega circa 40 minuti, 40-45 minuti a leggere 30 pagine, ok? Questo potrebbe essere un primo obiettivo. Quindi vi ritagliate 45 minuti nella vostra giornata, in questi 45 minuti leggete queste 30 pagine. Leggere 30 pagine al giorno, ragazzi, vuol dire leggere circa un libro ogni 10 giorni, che vuol dire 3 libri al mese, che vuol dire 36 libri l'anno. Guardate che in un anno vi fanno la differenza 36 libri, ok? Quindi piccoli obiettivi e poi piano piano, quando li raggiungete, avete creato l'abitudine, aumentate. Ma vedrete che arriverà, sarà veramente fisiologico, sarà normale aumentare nel momento in cui siete più allenati, esattamente come quando fate uno sport, no? All'inizio enorme fatica nel fare uno sport, acido lattico il giorno dopo, siete stanchi, siete distrutti. Dopo mesi potete aumentare i pesi, potete aumentare il numero di ripetizioni, potete aumentare il tempo di allenamento. La stessa cosa succede con la lettura. Ragazzi, un'altra cosa è l'ambiente. Soprattutto all'inizio, quando questa abitudine di leggere non è sviluppata, createvi un ambiente che sia sereno, che vi permetta di concentrarvi, non leggete in posti o in ambienti che rendono difficile sviluppare quell'abitudine. Io mi ricordo che all'inizio mi piaceva, visto che in ufficio c'era sempre molta confusione, quando dovevo avere la mia oretta di lettura, prendevo, avevo un parco vicino all'ufficio e me ne andavo al parco, con le cuffie, musica, in modo che nessuno mi disturbava e mi mettevo lì a leggere, dove non c'erano altri disturbi ed era anche estremamente piacevole ragazzi leggere al parco. Quindi importantissimo, curate l'ambiente. L'ambiente può fare la differenza. E il quinto consiglio riguarda la competizione. Ragazzi, leggere non è una competizione. Leggere non è che vi danno un premio se leggere di più. Il premio lo indirettamente lo ereditate. Ma non è che dovete stare lì. No, devo leggere di più. No, devo fare 50, 60 libri l'anno, 70 libri l'anno. No, non l'affrontate in questo modo. Cercate invece di capire che è un percorso ed è un'abitudine che vi accompagnerà per tutta la vita. La farete per tutta la vita. Non è qualcosa che dovete fare per un anno e quindi mi devo allenare per questo anno. No, sviluppate l'abitudine affinché sia un'abitudine che duri per tutta la vita. Non prendetela come una gara. E adesso veniamo al mio segreto, quindi il bonus. Qual è il mio segreto? Che mi permette di leggere davvero davvero tanto. Vi dico la verità, non so quanti libri leggo l'anno. E non credo nemmeno che abbia un numero preciso. Ci sono degli anni in cui riesco a leggere molto di più e degli anni in cui riesco a leggere magari un pochino di meno. Ma sono sicuramente sopra i 5-6 libri al mese. Come faccio? Beh, applico due tecniche. Una tecnica è una tecnica per leggere più velocemente. Ho fatto un corso, ho studiato quello che viene chiamata speed reading per aumentare la capacità di lettura. La lettura, vi dicevo prima, è un allenamento, gli occhi si devono allenare, il campo visivo si deve allenare, delle nostre abitudini che ereditiamo dalla scuola. Ve ne dico una, ragazzi. Uno degli errori principali per cui mediamente le persone leggono lentamente è perché quello che leggono se lo ripetono dentro la testa. Al cervello non serve. Il cervello, l'occhio nel momento in cui vede, il cervello registra. Ma ripeterselo rallenta. Già togliervi quell'abitudine vi assicuro che vi darà una marcia in più. Comunque per me, ripeto, la possibilità di leggere di più mi è stata data dal questo corso di speed reading, di lettura veloce, che ho fatto applicata alla tecnica dello skimming. Cosa vuol dire skimming in inglese? Vuol dire saltare, o meglio, cercare i paragrafi che mi interessano di più. Visto che leggo tanti libri, alcune volte ci sono dei libri, ragazzi, che magari non sono nella loro completezza utili. Magari ci sono dei paragrafi che sono utilissimi e poi capitoli interi che non sono per niente utili. Una cosa che faccio, e non bisogna vergognarsene, all'inizio mi sentivo in colpa, e cioè quella di cominciare a leggere l'inizio di un paragrafo e la fine di un paragrafo e capire se quel paragrafo poteva essere interessante. Se era interessante mi ci mettevo e lo completavo, se pensavo che potesse non essere interessante lo saltavo e passavo a quello dopo. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Il mio obiettivo è imparare il più possibile, ma imparare le cose che mi servono. Non devo imparare tutto, devo imparare le cose che mi servono. E quindi, con queste due tecniche, ho dato veramente una marcia in più. Un'altra cosa che vi dico come extra bonus, ragazzi, ci sono dei libri a volte che li iniziate e capite, magari nemmeno arrivando a metà libro, che sono un po' una ciofeca. Lasciate stare, il vostro tempo è prezioso, non dovete per forza finirlo, non succede niente. Quel libro lo buttate e ne prendete un altro. Di letteratura ce n'è tantissimo, ci sono tantissime cose da leggere, quindi vanno lette le cose giuste. Leggere una cosa, apprendere un'altra. Quindi non è detto che mentre leggete automaticamente quello che leggete vi rimarrà impresso per sempre nella testa. Sono due livelli diversi, ragazzi. Leggere una cosa, studiare o apprendere è un'altra. Ma questo ce lo lasciamo per un altro video. Spero questo video vi sia stato utile. Se avete altre tecniche e altri consigli lasciate qui sotto un commento perché sarà utile non solo a me ma a tutta la community che ci segue. Grazie mille per l'attenzione. Buona lettura a tutti. Ciao.